Inizia ora 2.0 e il nome dell'evento di questo oggi. Allora, cosa inizia? Cosa inizia con lei? Oggi è il secondo incontro di questo nostro viaggio che racconta la proposta di partecipazione politica e della coalizione che mi sostiene come candidato sindaco. È un viaggio che racconterà la mazzara che vedremo dal 2019 al 2024. È una mazzara dove tutti quanti potranno partecipare a contribuire, a rianimarla e a renderla di nuovo viva, a renderla di nuovo florida, a mettere in campo tutte quelle iniziative che occorrono. Oggi parleremo di giovani, di giovani che vanno e non ritornano, di giovani che invece devono trovare e troveranno un'opportunità per ripensarsi e riprogettarsi in questo territorio. In che modo far tornare i giovani a mazzara? Dobbiamo generare innanzitutto un atteggiamento, un atteggiamento che è di speranza, mentre adesso c'è rassegnazione. Vede, io incontro tanti ragazzi diciottenni e tutti mi rispondono alla mia domanda dove ti immagini da adulto nello stesso modo. Nessuno di essi si immagina qui a mazzara e questa è una cosa davvero tristissima. Noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle iniziative, a cominciare da quelle che abbiamo già raccontato durante l'evento del 27 gennaio, per consentire ai ragazzi di pensare che in questo territorio si può fare impresa, si può fare artigianato, si può costruire un futuro carico di soddisfazioni professionali, perché se ci sono le competenze l'amministrazione comunale, creerà le opportunità per tutti quanti. Quindi far ripartire l'economia è alla base di tutto questo? Assolutamente sì, è una delle quattro direttrici che ci siamo dati nel nostro programma di governo, a partire da turismo, agricoltura e pesca. Oggi in particolare parlerà Martina Ferracane. Come l'ha conosciuta e quale sarà il suo ruolo nel suo progetto? Martina Ferracane è una ragazza eccezionale, figuratevi che la rivista Forbes americana l'ha raccontata tra i 30 giovani più influenti del mondo, del pianeta, tra i 30 under 30 più influenti del pianeta. Lei ha avuto un'intuizione geniale, viene qui a raccontarci come un giovane se ha le competenze può trovare opportunità e come le politiche di aiuto allo sviluppo giovanile possono essere davvero vincenti, anche in territori come quello di Mazzara. Noi l'abbiamo incontrata grazie alla nostra fitta rete di relazioni, perché quello che caratterizza la coalizione che sostiene Salvatore Quinci sindaco è che noi faremo le cose insieme a tutti gli altri. Il 2.0 di Mazzara del Vallo con Quinci sindaco, come lo vede? Sicuramente è un progetto innovativo per la città, un progetto che raccoglie delle diversità, delle persone che portano nella loro individualità qualcosa di diverso e sicuramente complementare. Quindi riteniamo che questo sia il progetto giusto per guidare la città di Mazzara del Vallo per i prossimi anni, un progetto civico, innanzitutto un progetto fatto di liste civiche, un progetto che punta soprattutto sulla competenza e sulla capacità delle persone. Pensiamo soprattutto che in questo momento storico per la nostra città è necessario ed è importante che anche coloro i quali hanno avuto delle posizioni e anche dei punti di vista diversi su alcuni temi fondamentali che riguardano il nostro territorio, oggi possano collaborare e mettersi insieme per un obiettivo comune che è quello di migliorare e far crescere sempre più la nostra città. Penso che in questi anni siano state fatte molte cose importanti e penso anche che molte altre cose bisogna fare e penso soprattutto che oggi è necessario un sindaco di sintesi che possa portare sicuramente un po' di serenità sociale nella nostra comunità. Penso che qui ci sono tutte le caratteristiche e requisiti giusti per poter portare avanti questo progetto e sicuramente per poter guidare in maniera eccelsa la nostra città per i prossimi anni. Quale sarà il futuro 2.0 di Mazzara del Vallo con Quinci sindaco? Sarà una bellissima avventura con Salvatore Quinci sindaco della città di Mazzara del Vallo. La città è stata disegnata, ora bisogna colonarla, quindi andiamo avanti. Oggi una bella manifestazione, la sala è piena? È abbastanza, ci sono molte persone fuori, le aspettiamo così il nostro candidato sindaco ha un modo di dire il nostro programma elettorale. Perché scegliere Quinci sindaco? Quale sarà il futuro di Mazzara 2.0? Semplicemente perché è una persona preparata, una persona credibile e sicuramente è una di quelle persone che può ricoprire il ruolo di sindaco. Io parto dal presupposto che il sindaco non deve essere quella persona che deve usare la fascia tricolore per andare nelle mani termoni civili oppure nelle processioni, il sindaco deve essere una persona competente. E già se ne parla bene di Salvatore Quinci perché è una persona comunque che è piena di contenuti ma soprattutto ha tanta voglia di fare. Ha tanta voglia di fare, ha convolto una bella squadra di un bel movimento civico dove mi sento rappresentato, tra l'altro posso dire noi in qualità della forza dei fatti già siamo quasi pronti, abbiamo una lista quasi al completo e questo ci fa capire che la città comunque ci sta osservando e che comunque crede in una politica del fare e dei fatti. Quinci sindaco, quale sarà il futuro di Mazzara con lui a capo? Sarà sicuramente un futuro diverso rispetto a ciò che si è prospettato negli anni precedenti. Sappiamo benissimo che Mazzara vive una condizione di profonda crisi economica la gente è sfiduciata rispetto alle prospettive future noi vogliamo appunto dare una speranza alle persone quindi ripartire dallo sviluppo socio-economico da una nuova classe dirigente, coinvolgere le migliori energie del territorio il mondo dell'associazionismo, i professionisti, i giovani e quindi attraverso la partecipazione dei cittadini che è il metodo che contraddistingue appunto questo gruppo di coalizioni civiche e che sta anche alla base della nascita del movimento Siamo Mazzara quindi attraverso la partecipazione a rendere i cittadini protagonisti del loro futuro. Quale sarà il futuro di Mazzara del Vallo con Quinci sindaco? È una bella domanda è da quello che si respira in città fra la gente, negli ambienti più comuni, nei salotti ma soprattutto anche nei laboratori dove si lavora e si pensa un futuro Quinci non spunta da nulla sappiamo che ha un lungo percorso alle spalle di tessere una sorta di tela, di interrogarsi, di confrontarsi con i cittadini con le forze imprenditoriali, con le forze sociali e dopo un lungo lavoro oggi da qualche settimana viene alla luce la sua candidatura la sua disponibilità si prospetta, possiamo dire, innanzitutto un apparente futuro rosio l'apparenza dipende dal fatto che bisogna aspettare che il corpo elettorale si pronunci è una bella battaglia, una bella contrapposizione per le forze in campo che ci sono lui ha una differenza a più la sobrietà e l'effervescenza di chi si affaccia alla politica naturalmente con un livello di responsabilità pesantissimo che è quello di fare ad Ambira a fare il primo cittadino della città in un momento storico difficile e un primo risultato credo che l'abbia ottenuto il suo progetto che non è il progetto di altri io immagino che è il suo progetto trova la convergenza di persone, di uomini, di donne e anche di politici uomini ex amministratori che in questa idea progettale, in questa sobrietà ci si ritrova perché ci può essere un futuro sereno per la città di Mazzola del Vallo sicuramente una coalizione molto eterogenea fatta di personalità anche molto diverse tra loro è proprio questo l'elemento vincente di questa situazione nel senso che mai si potrebbe pensare questo avviene anche come abbiamo visto anche nelle altre coalizioni e non è soltanto come dire quell'idea delle liste civiche di 15 anni fa è un'altra storia, un uomo accompagnato da diverse donne nel tempo, non tre mesi prima o un mese prima della campagna elettorale ma già da qualche anno, mi è passo di capire, ho scoperto e ho capito che ci si interrogava su un progetto per la città accomunare gente che la pensa diversamente ma che trova in un'unica persona qual è una guida certa, quella di Quincy siamo in buone mani che è una persona per bene una persona che non ha bisogno di fare politica per altri fini è un uomo dello Stato ha tutte le caratteristiche per far traghettare questa città dalle condizioni attuali degli ultimi 20 anni a questa parte e quando dico degli ultimi 20 anni attenzione anche qui la sobrietà e l'effervescenza della campagna elettorale e dell'uomo che stiamo scoprendo parla del suo programma, delle cose che vuole fare non certamente di quello che è stato prima oggi questa città ha bisogno di una sorta di pacificazione non di guerra, di caccia all'uomo, di porcherie, di storie non ha nulla a che vedere con il governo per davvero della città